Ciao ragazzi, siamo qui in pista pescantina con Marco Buttorini, che è un rider del pescantina. Siamo venuti con Elia a fargli qualche domanda sulla preparazione fisica nella BMX. Perché Marco? Che studi ha fatto? Allora, sono laureato in scienze motore a Trennale a Verona e adesso sto facendo la laurea magistrale specialistica a Roma di scienze tecniche dello sport, quindi preparazione atletica. Perfetto, quindi Elia gli farà qualche domanda sulla preparazione specifica nella BMX, sia per i ragazzi sia per gli azioni. Quanto è importante la preparazione fisica nei ragazzi in BMX? La preparazione fisica per i ragazzi di BMX cambia tantissimo secondo l'età. Con i ragazzini, circa fino a 12, 13, 14 anni, non è molto importante andare in palestra a spingere molto fuori dal contesto della bici, ma piuttosto è meglio affinare la tecnica BMX. Riuscire a fare bene gli anticipi, riuscire a fare bene i manual, riuscire bene a fare i salti. Poi, dopo quando siamo capaci di andare in bici, possiamo lavorare su aumentare la forza e questo possiamo già farlo a partire dai 12-13 anni. Per i ragazzini può essere importante, può essere un aiuto per il futuro, ma non così essenziale. Invece per i ragazzi più grandi è fondamentale, è di fondamentale importanza. Addirittura i più grandi si allenano più in palestra, quindi più senza bici che in pista. La struttura fisica di un atleta della BMX come deve essere? Per i più grandi, se guardiamo ad esempio i rider top mondiali, sono alcuni molto alti, alcuni sono sotto a 1,80 m, alcuni altri sotto a 1,75 m senza nessun problema. Alcuni sono molto tozzi e alcuni invece sono molto snelli, quindi diciamo che non c'è un fisico ideale. Non bisogna essere per forza uno o l'altro per andare forte, ma sicuramente avere una struttura muscolare ben piazzata aiuta, sicuramente sia per la forza muscolare, quindi bisogna fare un bel lavoro in palestra ma anche in pista e anche per quanto riguarda ad esempio l'altezza per avere più scelta in pista. I bambini, bar ragazzi, più alti sono avvantaggiati rispetto a quelli meno. Fino all'età di 14, 15, ma anche 16 anni diciamo che aiuta molto essere più alti, quindi il ragazzino anche più grosso ma soprattutto anche più alto può aiutare molto. E anche nei ragazzini c'è uno sviluppo molto diverso tra uno e l'altro e quindi a un'età di 14 anni possiamo trovare il ragazzo, il rider, che è alto 1,85 m e assieme, che corre assieme ad un rider che è alto diciamo 1,60 m, 1,55 m e ne pesa la metà. Sicuramente avere un peso molto più alto è un aiuto perché c'è più massa muscolare e quindi si può spingere molto di più sulla pedalata e quindi insomma si ha più forza. Essere più alto invece è un aiuto soprattutto per la parte tecnica perché ad esempio fare i manual sui salti molto più fondi e quindi avere delle gambe più lunghe è molto d'aiuto e quindi si può fare un anticipo, si può fare un manual anche sui salti dove magari un altro ragazzino più piccolino deve per forza saltare o pompare. A quanti anni i ragazzi possono sollevare i pesi? I ragazzi possono partire sicuramente anche prima dei 12, 13, 11 anni a fare esercizi a corpo libero. Questo perché bisogna creare una base per gli esercizi in futuro. Quindi in futuro bisogna per forza lavorare in palestra, stiamo parlando dei BMX per riuscire ad arrivare ad un certo livello perché bisogna aumentare la potenza muscolare, quindi bisogna andare per forza in palestra. Però per andare in palestra e alzare molti chili e quindi lavorare sulla forza bisogna saper fare bene gli esercizi. Questo si può fare anche a corpo libero, quindi iniziare a capire bene come muoversi e lo si può fare anche da ragazzi anche prima di 10 anni, non sono assolutamente un problema e non c'è alcun riscontro negativo. Sicuramente a partire dai 14 ma anche dai 13 anni si può già iniziare a usare esercizi con sovraccariche e quindi mettere dei pesi in palestra se si ha una buona tecnica e se si è aiutati da un professionista. Grazie Marco per le tue spiegazioni e noi invece ci rivediamo venerdì prossimo con un altro video dove Marco mi farà lavorare su alcuni esercizi a corpo libero. Ciao e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.